A una O che divide, preferiamo una E che unisce. Per sostenere il presente e il domani di tutto il paese. E lo facciamo da 70 anni. ENI. L'energia di sempre e l'energia nuova. Allora, buongiorno, salve, sono Nico Biagianti, sono un Senior Sales Executive di Onclusive. E grazie di essere qua, grazie della vostra attenzione. Volevo presentarvi brevemente Onclusive perché è una realtà nuova nel mondo della comunicazione. Ma anche no, nel senso che veniamo da una lunga storia. Veniamo da una storia di monitoraggio, da una storia di media monitoring con, per esempio, Cantar Media. Che molti di voi conoscono. Un cliente su due nel media monitoring in Europa faceva appunto capo a questo servizio. E l'unione di altre realtà molto importanti come Critical Mention. E come ultimamente anche Digimind. Che poi è il servizio di social listening più longevo. Perché è una buona notizia Onclusive? Perché dall'unione di queste società, unione poi che ci è stata richiesta fortemente proprio dai professionisti della comunicazione, abbiamo strutturato un servizio completo e tutto intorno alle esigenze appunto dei comunicatori. Quindi tutto incluso dalla parte del monitoraggio, quindi monitoraggio intendo l'ascolto di qualsiasi fonte, che sia stampa, che sia web, che sia radio tv, che sia appunto anche social, che la parte degli strumenti a servizio dei comunicatori, come possono essere appunto quello del database dei giornalisti, che la parte degli insight, che poi è il nostro core business e quello cioè dopo aver mappato completamente le informazioni che sono presenti per un brand o per un'azienda, poter dare anche da questa mappa, diciamo così, una bussola indicativa su dove dirigere al meglio la comunicazione. Grazie appunto al nostro lavoro di comprensione del testo, che è in parte dovuto appunto all'intelligenza artificiale, former Onclusive, appunto una società che si occupa esclusivamente dell'intelligenza artificiale, e il nostro, diciamo così, definizione analitica. Questo, diciamo così, per dare un po' una presentazione doverosa a un brand internazionale che è presente in 18 paesi, è l'unica multinazionale che si occupa di media monitor in presente anche con una sede italiana. Perché siamo qua? Siamo qua perché abbiamo fornito ai professionisti della comunicazione uno strumento, uno strumento open source, che è il SEO Index, che potete poi vedere anche direttamente, abbiamo un desk qua, potete anche provare questa risorsa, che è sul nostro sito, onclusive.it. Che cosa misura il SEO Index? La percezione reputazionale del SEO, delle grandi aziende, e li mette in comparazione tra di loro a livello globale. Questo perché? Perché è importante andare a monitorare il SEO? Beh, intanto perché sono disponibili numerose ricerche che confermano appunto che un SEO contribuisce in maniera determinante alla fiducia degli investitori, quindi la sua comunicazione è ovviamente importante. Poi c'è anche il tema che sempre di più i SEO hanno un ruolo che integra quello che è un ruolo istituzionale, politico anche nel senso alto del termine, e quindi questa crescente importanza dei SEO, delle figure apicali, porta anche a una maggiore specificità della propria comunicazione e quindi della mappatura della propria comunicazione. La guida di queste aziende, l'abbiamo visto poi insomma anche ultimamente, anche in Italia, sempre sotto i riflettori e quindi dobbiamo studiare in maniera approfondita. Diciamo così, noi abbiamo messo a disposizione questo strumento open source, che è poi una piccola parte del nostro lavoro di insight. Il punto qual è? Il punto è quello di cercare, passiamo alla slide successiva, di mappare, ecco, analizzare la presenza mediatica dei leader aziendali globali in tutti i settori. Quindi il primo punto, come poi vediamo nelle nostre slide, sarà quello di vedere una classifica, quindi un ranking necessario, ma è interessante anche vedere come si comportano i SEO rispetto ai loro colleghi, quali SEO stanno crescendo di prestigio o no, chi sta guidando il dibattito politico e chi ha poi la forza di imporre le questioni aziendali a capo dell'agenda anche politica del sistema paese. E quindi questo, diciamo così, ci permette di aggregare le performance dei SEO per calcolare poi un valore alla loro presenza mediatica. Un passaggio doveroso sulla metodologia di questo strumento, appunto, questo open source, il SEO index, che, diciamo così, per necessità di trasparenza, quindi non mi dilungherò in metriche, però, innanzitutto, che cosa significa SEO di grandi aziende? Ci sono appunto degli indici che sono prestabiliti e che hanno una ottima, ovviamente, reputazione globale e da questi abbiamo tratto l'oggetto della nostra analisi, e quindi Fortune 100 per l'USA, ITA 40 per l'Italia, questo è quello che definisce una grande azienda. Dopodiché passiamo all'identificazione di che cosa? Di un panel, di un bouquet significativo di testate, che ci permette di considerare cosa? I news brand che davvero contribuiscono a creare la reputazione, in questo caso di un SEO, e andando quindi ad escludere tutta quella serie, invece, di news brand minori, che possono modificare, e in parte esiziale, la reputazione del SEO, che invece viene composta dal bouquet di testate che abbiamo identificato. Ultima parte, questo è quindi di qual è l'oggetto del SEO index, dove è, diciamo così, limitato il senso dell'indagine. L'ultima parte è il valore di quest'indagine, e cioè il nostro impact score, che è un indice proprietario o inclusive, basato su alcune metriche, come appunto la diffusione, l'autorevolezza della fonte, la prominence degli articoli, cioè quanto un articolo, in che misura l'articolo è dedicato al soggetto della nostra indagine, e il sentiment, che diciamo così, è un valore che dà un'altezza alla parte volumetrica. Quindi se l'index vada banalmente da 0 a 10, con il sentiment, questo 0 a 10, questo parlare di questa notiziabilità del SEO, può essere appunto positiva, negativa o in alcuni casi equanime. Passiamo quindi al dato, quello più semplice, cioè una analisi relativa al Q1, e quindi si parla da gennaio a marzo, di tutti i SEO delle grandi aziende globali, appunto come abbiamo definito nella nostra metodologia. Quindi in base a questi aggregati possiamo intanto vedere una classifica, cioè quali sono i SEO dei vari paesi, vari paesi importanti, che hanno maggiore impatto sui media. Quindi per esempio, consideriamo gli Stati Uniti, Elon Musk, che ovviamente è il primo posto, al secondo posto comunque Zuckerberg e poi Nadella di Microsoft, a testimonianza poi della grande importanza del tema tecnologia, e anche l'automotive, che è un tema trainante delle conversazioni dei SEO negli Stati Uniti, è comunque connaturato sempre al senso di innovazione. Poi Musk ha tenuto banco ovviamente anche su questioni controverse come appunto il prezzo delle azioni Tesla, l'acquisizione di Twitter e la presentazione poi dell'Investor Day. Poi il mercato americano è il più importante, il nostro index, ora non c'è il dettaglio nella slide della classifica globale, ma tra i top 10 dei SEO a livello mondiale, 9 provengono da Forte Uncento, solo uno viene da un mercato non americano, che è il mercato francese, che è Bernard Arnault di LVMH, che è stato citato appunto sia molto per i risultati aziendali, che anche per i risultati personali, e quindi ha monopolizzato la presenza sui media importanti su questi due temi, che lo accomunano anche a BP UK, Bernard Looney, anche lui abbiamo notato questa citazione connaturata tra i risultati aziendali e quelli personali. Blume invece di Volkswagen Group in Germania, sta capitalizzato poi la sua presenza mediatica, comunicando soprattutto a proposito dei nuovi veicoli elettrici in produzione. Questo che vediamo in questa slide è invece una parte un po' più approfondita del nostro impact score, che è comunque una piattaforma dinamica, che quindi ha la possibilità di essere filtrato per diverse metriche, e quindi questa è una, per esempio è una scheda, un deep dive sull'Italia, sempre relativa al Q1, per questo vediamo anche dei CEO che non sono attualmente in carica, che lo sono stati però nel periodo di riferimento, con risultati anche molto importanti. Intanto possiamo vedere che in questo index, in questo Q1, vediamo a capo, diciamo così, il vincitore di questo ideale classifica della presenza per qualità e quantità mediatica, è Descalzi, di Eni, con un ampio volume di citazioni. L'ampiezza del volume serve a definire la mappa e sostanzia anche la notiziabilità di Descalzi, e quindi la possibilità di arrivare ad essere notizia, di presidiare spazi là dove poi si contribuisce maggiormente a creare appunto reputazione, sia personale che poi questa, come viene trasferita all'azienda. Oltre alla mappa, quindi all'ampiezza di fonti, abbiamo anche un impact score, cioè la capacità di avere impatto reputazionale, in questo caso positivo, sui media, in scala da meno 10 a più 10, è al 3.2, che è un'ottima misurazione, quindi attraverso appunto questo nostro indice proprietario, che mix e match questi valori, come appunto pertinence, sentiment e altro, abbiamo una presenza sia orizzontale ovunque, che quindi verticale, quindi anche positiva. Ha fatto molto parlare di sé Francesco Starace di Enel, molto e molto bene, grazie poi ai sorprendenti dati di performance finanziarie, dovuti anche alla riduzione del debito, e che ha un impact score molto alto, che è il secondo, superato soltanto da Stefano Venidi, Snam. Poi ci spostiamo un attimo, l'attenzione sull'ultima colonna di destra, perché? Perché qui siamo intervenuti, diciamo così, extra bouquet testate, reputazionali, importanti, news brand fondamentali, su un'analisi social, attraverso il nostro strumento, strumento di social listening, che è DigiMind, il più longevo strumento di social listening che abbiamo, qua in Europa, ed è, qui è comprensibile la diversità della classifica, perché ovviamente, in un concetto di infosfera digitale, la comunicazione viene percepita in maniera del tutto diversa, vediamo per esempio, come è cambiata la classifica, descalzi è soltanto al quinto posto, mentre il CEO, che è stato più social nel Q1, è stato starace. Notizia interessante, non presente nella slide, il sentiment, perché il sentiment social, degli interventi, dei principali CEO, delle grandi aziende, è positivo, positivo fino a punte del 70%, è sempre appunto analizzato attraverso DigiMind. Altra possibilità che abbiamo con il nostro CEO Index, che è appunto uno strumento open source gratuito, sul sito di oinclusive.it a vostra disposizione, una delle possibili schede che possiamo appunto vedere, tra i CEO globali in analisi, abbiamo quella appunto di Descalzi, che è il numero uno, per quanto riguarda l'Italia nel Q1. Quindi volendo approfondire un po' la figura del top CEO del nostro Index italiano, in questo caso, ci troviamo sempre in una logica di analisi orizzontale, cioè stabilire quanti più parametri possono essere utilizzati per comparare il maggior numero di, in questo caso, CEO in tutto il mondo. Quindi questa è la bontà dell'analisi, trovare delle metriche infinitamente comparabili, sia come vediamo anche la grande capacità dell'Index di seguire le novità della realtà. In questo caso, oltre al Q1, c'è un aggiornamento anche a maggio, e possiamo vedere quanto fluttua il valore della comunicazione, della percezione della comunicazione dei CEO sulla stampa. Mentre a gennaio era, diciamo così, al massimo della sua copertura mediatica, Descalzi, quindi un picco altissimo, dovuto al... del Maghreb definiti appunto come strategici e complementari agli interessi appunto dello sviluppo industriale. Poi passiamo invece a un febbraio, dove si è parlato molto di CEO, ma si è parlato molto anche di cambi di CEO, quindi che non hanno riguardato Descalzi, e quindi ha avuto una presenza abbastanza marginale in quel momento, fino a poi ad aumentare moltissimo ancora ad aprile, e questa fluttuazione viene appunto sempre considerata dal nostro index. Interessante la parte a destra, il grafico a torta, perché siamo in grado anche di definire non tanto appunto la mappa e la qualità della comunicazione, ma anche la distribuzione della comunicazione. Quindi ragioniamo su di che cosa parlano i CEO delle grandi aziende. Abbiamo individuato dei pillar fondamentali e notiamo che, nel caso appunto di Descalzi, leadership e innovazione sono come il resto ci si aspetta, perché sono connaturati all'idea dell'eccellenza della struttura aziendale, di cui loro sono appunto la parte principale, ma anche regulation. Ecco, questo è molto interessante, soprattutto nel caso di Descalzi. Regulation che significa comunicazione istituzionale, quindi leggi del mercato, quindi anche comunicazione politica. In questo caso appunto abbiamo parlato di una strategia di coinvolgere diversi stati nell'approvvigionamento delle fonti energetiche. Quindi un 30%, quindi quasi un terzo della comunicazione di Descalzi è una comunicazione di altissimo livello istituzionale, quindi che interpreta sempre meglio il ruolo sempre più politico, sempre più istituzionale che hanno le aziende nel mondo e quindi anche in Italia all'ATER è anche la parte interessantissima ovviamente per loro che è quella di Dieni, che è quella della sostenibilità. Poi sostanzialmente passiamo sempre legandoci a quest'idea di comprendere, ecco, quello che Onclusive aiuta, diciamo così, a fare attraverso questo index e in generale attraverso la nostra capacità di analisi e anche capire i settori di cui si parla, cioè quelli di cui in questo caso del SEO Index i SEO contribuiscono a far sì che rimangano sull'agenda politica, che possono contribuire ad essere presenti, che contribuiscono a generare fiducia costante negli investitori. Quindi si parla, per esempio in Italia, abbiamo notato che si parla moltissimo di energia, mentre negli Stati Uniti il primo settore media e comunicazione e il secondo, come abbiamo ricordato, l'automotive, intesa sempre però in senso di innovazione. Quindi questo dipende molto poi dal settore, delle grandi aziende che presidiano comunque in maniera molto interessante e costante la comunicazione. La seconda indicazione del SEO Index sono gli argomenti, i topic, nel senso di pillar comunicazionali, quindi la parte a destra, quella che da un punto di vista universitario veniva definita da Von Brun nel 1996, la dimensione reputazionale, le dimensioni reputazionali dei vari brand e delle varie aziende, notiamo che cosa? In questo caso le figure apicali parlano di leadership, quindi come dicevamo dell'eccellenza della propria azienda logica che riguarda appunto la loro posizione, ma in Italia appunto comunicano anche su temi istituzionali, sull'innovazione, meno presente è il tema della sostenibilità che invece i brand, ho sentito anche stamani, di cui parlano in maniera sempre più, con peso sempre più importante, sempre più crescente, una trasformazione epocale della comunicazione delle aziende, del nostro vivere, per quanto riguarda appunto i CEO, è un pillar comunicazionale al quinto posto qua in Italia, però è già al quinto posto, cioè vedendola dall'altro punto di vista, la sostenibilità è già entrata come il quinto argomento importante nella comunicazione dei grandi CEO italiani, la sostenibilità di tutto quello che è la rivoluzione ISG. Questa è un'immagine dello strumento che mettiamo a vostra disposizione, che vi invito poi a provare, perché il senso dell'open source è proprio questo, cioè giornalisti, comunicatori, utilizzate per i vostri fini questo index, lo vedete appunto sulla parte sinistra, è visibile, consultabile sul nostro sito www.onclusive.com e vi dà la possibilità di filtrare per mercati, la possibilità di filtrare per argomenti, di andare in deep dive su un particolare CEO e di poter vedere anche gli argomenti di cui parla. Abbiamo anche un desk che abbiamo allestito proprio per darvi già oggi la possibilità di poter verificare in pratica la bontà del nostro CEO index, che comunque è una parte, come dicevo prima, interessante dal punto di vista orizzontale, perché trova delle metriche non infinitamente ma grandemente comparabili e quindi da un livello, diciamo così, orizzontale alla nostra modalità di analisi, l'analisi di Onclusive, che d'altro canto è spesso e volentieri utilizzata in maniera molto verticale, fino ad analizzare, ecco per esempio, quando analizziamo la reputazione di un singolo brand, siamo in grado di andare in maniera verticale fino ad analizzare delle metriche che sono direttamente aziendali, quindi KPI specifici. Però questo è uno strumento molto interessante, come vi dicevo, che è gratuito e a vostra disposizione e che potete appunto consultare quando volete, anche oggi. E io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.